Per quanto riguarda la giornata di oggi cercherò di raccontare quello che è il BIM per il mondo Autodesk in termini di processi, processi workflow. Infatti il Building Information Modeling negli ultimi anni è stato particolarmente un concetto travisato perché si è fatto coincidere il concetto di BIM con il concetto di software. Il Building Information Modeling è una business decision e non coincide con l'acquisto di software. Deve essere un processo premeditato a livello aziendale, va a impattare su tutti i livelli aziendali quindi a partire dal modellatore fino paradossalmente all'ufficio acquisti devono diventare BIM per poter utilizzare al meglio le potenzialità di questi processi. All'interno di Autodesk abbiamo una soluzione completa che può dialogare facilmente con il mondo esterno quindi con applicazioni terze attraverso l'Application Program Interface attraverso il formato standard che è l'IFC ma si può anche risolvere tutta la filiera del BIM rimanendo in ambito Autodesk. Infatti proponiamo soluzioni che riguardano l'ambiente architettonico, strutturale, impiantistico fino alla parte di construction quindi per la gestione del cantiere e per la gestione del facility management quindi piani di manutenzione dell'edificio. Infatti il Building Information Modeling come dicevo deve abbracciare tutti gli ambiti a partire dal progetto che è quello che già tipicamente conosciamo ma deve anche arrivare all'utente finale. Fino a quando l'utente finale non avrà valutato i vantaggi di avere un prototipo digitale per la gestione del suo edificio il Building Information Modeling non potrà esprimere tutte le sue potenzialità.